No, sono bambini da solo, ecco, crema! Così, infatti stavo dicendo, ciao Pito! Perché? Perché si dice così? Non sa il dialetto, mi spiace più. E' però, che va la differenza, perché non c'è. Dai, c'è dei miei, sling, che è mi punto a prendere, è un da te, è un da te, è un da te, è un da te. E la desidero, la farà, è un da te, è un da te, è un da te. E' un da partire, uno oggi sì! E' un da partire! Eh, sì, eh! E' un da te, io ero in lista dalla tia! E' un da te! E' un da te! E' un da te! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao amore! Ciao! Ciao! Come sei cresciuto? Ciao! Guarda il ponte! La mamma è la Corina. E la sua bambina. Non si legge. La tua bambina è la Bambina. Sì, sì. Sì. 49, 50. Sotto la mamma... Sì.